Ciao a tutti ragazzi, io sono Matteo Valenza e benvenuti in questo nuovo video. Hey Tesla! A mia suocera bruciano le chiappe dal caldo. Sì, era uno scherzo, Tesla non rimane in ascolto e attende la parolina magica Hey Tesla, come vi ho fatto credere. Vabbè, comunque per attivare i comandi vocali bisogna utilizzare il pulsante di destra sul volante. Esistono diverse categorie di comandi, li ho divisi in climatizzazione, configurazione, multimedia, navigazione e ricarica. E ho anche stilato tutta la lista, la trovate nella descrizione. Se mai volete fare qualche prova a casa vostra, con la vostra Tesla, la potete scaricare tranquillamente. Prima di cominciare con il nuovo video ragazzi, vi prego di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e accendere la campanellina. Lasciate un like prima della fine di questo video. Mi raccomando, aiuterà questo video a diventare virale, che poi alla fine lo vedranno un pochino più di persone, niente di particolare. Ma comunque aiuta il mio canale a crescere e vi sarei molto molto grato se voi lo facciate. Se voi lo faceste. Meglio. I comandi vocali di Tesla sono sempre stati il suo tallone d'Achille, diciamo. Perché non funzionavano, funzionavano, poi non funzionavano. Poi dopo un mica super aggiornamento non hanno più funzionato completamente. Ebbene, finalmente adesso funzionano. Cosa hanno fatto i tecnici Tesla? Invece di fare dei comandi standard, del tipo alza la temperatura a 22 gradi, hanno fatto una intelligenza artificiale. Quindi praticamente ogni volta che voi inserirete in una frase caldo oppure freddo, abbasserà di un grado e mezzo o alzerà di un grado e mezzo la temperatura. Ok, quindi praticamente io alla macchina posso dire anche che mi sudano le palpebre dal caldo e in questo caso aumenterà. Oppure mi si stanno congelando le chiappe perché ho caldo, che non ha senso. Ma in ogni caso, essendoci la parolina caldo, si abbassa la temperatura di un grado e mezzo. Ok, il problema però quale può essere? Che non funzionano i comandi se non è presente una copertura LTE, quindi internet. Quindi, perché cosa succede? In realtà l'intelligenza artificiale non è qui sulla nostra macchina, ma è nel cloud. Quindi ci sono dei server americani di Tesla che rispondono, quindi che prendono l'audio che è stato registrato, lo decifrano e poi rimandano all'auto il comando che lei deve fare. E' pressoché immediato questa cosa, però in questo momento io ho tre tac su cinque, insomma ho una buona ricezione. E funziona veramente bene. Ultimamente io poi l'ho utilizzato, vabbè che sono due meccine che non guido, ma non fa niente. Comunque io l'ho sempre utilizzato tanto e devo dire che dall'inizio in cui io, come sapete, ero parecchio scocciato dal fatto che una cosa così basilare non funzionasse, ora invece sono notevolmente sorpreso. Durante questo video, ragazzi, che partirà adesso, ci saranno tutti i comandi dettagliati uno per uno. Spero che il video vi piaccia. E via! Imposta 21 gradi. Caldo. Freddo. Mia moglie ha freddo. Abbassa la temperatura. Alza la temperatura. Spegni ventilazione. Accendi ventilazione. Accendi climatizzazione. Scendici. Accendi. 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 Aumenta velocità ventola. Diminuisci velocità ventola. Apri impostazioni di guida. Apri Regola specchietti. Chiudi specchietti. Apri specchietti. Tergicristalli. Spegni tergicristalli. Accendi il tergicristallo a livello 2. Impostazione climatizzatore su automatico. Calendario. Accendi luci di cortesia. Spegni luci di cortesia. Apri vano portaoggetti. Apri il browser. Chiudi il browser. Riproduci musica di no copyright sound. Chiama mamma. Ascolta Vasco Rossi. Prossima canzone. Canzone precedente. Modifica visione mappa. Vai a supercharger Elnos. Annulla. Vai a un destination charger. Vai alla farmacia comunale di nave. Apri sportellino di ricarica. Chiudi sportello di ricarica. Energia. Abbiamo finito. Grazie per la visione. Ok siamo ritornati qui. Mi rendo conto che il video sia stato un pochino lungo però almeno avete idea di cosa può fare la macchina. Può fare delle cose veramente molto fighe. Quindi andare a impostare la climatizzazione è una cosa semplice. Aprire e chiudere gli specchietti. Aprire la telecamera. Aprire il bagagliaio. Apri il baule. Questo comando non è ancora disponibile. Ecco. Vedete non è ancora disponibile il comando ma ve lo dice. Vi dice sto imparando e mi aggiornerò presto. Quindi presto noi potremmo dire apri il bagagliaio e si aprirà il bagagliaio. Oppure apri il frank. E come si apre in questo momento lo sportellino diciamo il glove box. Il porta oggetti. Lo faranno anche le altre cose. Cioè il bagagliaio frontale e posteriore. E un giorno anche le portiere. Magari quelle di Model X che si aprono automaticamente. È una cosa molto molto interessante. Hanno fatto diciamo il passo più lungo della gamba all'inizio. Ma adesso funziona veramente molto molto bene. Io vi ringrazio per essere stati con noi ragazzi. Se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. E lasciate un like. Se poi volete acquistare una nuova Tesla avrete 1500 km gratuiti. Se utilizzate il mio codice sconto. E lo trovate qui a sinistra. O a destra. Fa niente. Grazie ancora per essere stati con me. E al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.